Sono Camilla, lavoro per PerùResponsabile.it, in Italia PerùResponsabile è una onlus, il nostro scopo principale è quello di diffondere i valori del turismo responsabile, la cultura peruviana e portare avanti dei piccoli progetti di cooperazione rivolti soprattutto ai bambini e alle donne. In Perù siamo un operatore di turismo responsabile, organizziamo viaggi in tutto il territorio, il nord, quello forse un po' meno conosciuto, il sud, con itinerari più classici ma anche la foresta amazzonica e la costa. Il turismo responsabile è sicuramente un modo di viaggiare più etico che cerca di diminuire quelli che sono gli impatti negativi del turismo sul territorio di destinazione e aumentare invece gli impatti positivi sia economici che culturali che sociali. È comunque un turismo, quindi per noi prima di tutto vengono i nostri clienti a cui cerchiamo di offrire un servizio quasi impeccabile e a cui cerchiamo di far conoscere un paese che è il Perù, che è forse uno dei paesi più belli del mondo, in modo autentico, insegnandogli il rispetto per le persone che incontrano e per l'ambiente che li accoglie, garantendo soprattutto trasparenza per quanto riguarda la spesa che vanno a sostenere e essere quindi consapevoli del fatto che gran parte di quello che loro spendono andrà a aiutare l'economia locale. Noi pensiamo che coronare il momento più bello della propria vita, forse, il matrimonio con un viaggio di turismo responsabile abbia un valore unico. Significa fare un gesto d'amore per sé, ma anche per gli altri. Quindi eventi come questi dovrebbero essere molto più frequenti. Dei momenti di rete, di integrazione, dove chiunque si occupa di servizi al matrimonio, come gli operatori di turismo, ma anche chi fa servizi fotografici, video, catering, bomboniere, si uniscono e danno insieme un'immagine comune di come preparare e rendere etico e solidale il momento del matrimonio è sicuramente importante. Una coppia dovrebbe scegliere un matrimonio solidale perché io credo che sposarsi sia un atto d'amore e riuscire a farlo pensando non soltanto a se stessi, ma anche a tutto quello che c'è intorno. E soprattutto portando avanti certi principi come la sostenibilità e la responsabilità rendono sicuramente questo momento più bello, più importante e migliore.